con il tempo ho trovato utile salvarmi un progetto campione progetto campione contiene delle cartelle già preconfezionate anche i colori non è cosa da poco perché ti fanno intuire subito col colpo d'occhio cosa c'è all'interno con delle timeline già preparate preconfezionate addirittura nel progetto campione o una serie di titolazioni già fatte che vado a prendermela quella già compilata gli cambio solo il testo e quindi mi trovo con un kit di oggetti pronti all'uso e questo mi permette ogni volta che apro un nuovo progetto di avere già un preconfezionamento installato cosa succede quando si crea il progetto campione si va ad aprirlo come nel mio caso bisogna sempre avere l'accortezza contro shift s di andare a salvare rinominarlo subito si fa salva e questo prende il nome del nuovo lavoro che si prende in mano questo serve per mantenere sempre inalterato il progetto iniziale e quindi risultiamo ad avere sempre un progetto base utile per i nostri futuri lavori trovo che questa sia una cosa che svolge una funzione fondamentale e che aiuta il lavoro di editing